Ciao, sono Charlie Ludi, anch'io come tutti voi uso internet sia dal cellulare che dal mio PC tutti i giorni. Sono qui per sensibilizzare tutti verso un corretto uso di questo strumento perché sappiamo benissimo che a volte ci possono essere nascoste le trappole, a volte viene usato per fini non positivissimi. Quindi all'insieme del rispetto di voi stessi ma anche e soprattutto degli altri vi invito a un uso corretto di internet perché è uno strumento di ricchezza, è uno strumento di globalizzazione ma si è usato nel modo giusto.